Le cuoche e i cuochi si occupano di preparare in maniera professionale e impeccabile piatti caldi e freddi. Lavorano nelle cucine di ristoranti, hotel, ospedali, case di cura o aziende di catering. Nelle piccole aziende curano la preparazione di tutti i piatti, nelle grandi cucine invece possono ricoprire diverse funzioni. Nella partita del garde manger ci si occupa degli antipasti freddi e delle insalate. In quella dell'entromettier si preparano contorni di verdura e piatti a base di farina o di uova. Responsabili del pesce, della carne e delle salse sono i cuochi attivi nella partita del Sossier. I pasticceri infine si occupano dei dessert e dei dolci in generale. Fra i compiti di questi professionisti rientrano inoltre anche la gestione del magazzino e alcune attività organizzative. Si tratta di un lavoro a volte frenetico e caratterizzato da orari di impiego irregolari. Le cuoche e i cuochi lavorano in team, possiedono un ottimo senso del gusto, danno importanza all'igiene, sono abili manualmente e dotati di creatività.